Burlani, oggi su Minecraft nuova gara di costruzione contro Loco. Loco, come primo tema dovremo fare un motorino, eh sì. Come un motorino? Un motorino o bicicletta, ha sceglito quello che vuoi fare, va bene di qualsiasi cosa. Come è impossibile fare, Maci? Allora, vi dico solo una cosa, il server questa volta l'ha preparato Nico, ok? Che Nico non c'è. Quindi, non so se citterai o meno, io ti garanti io, io che non cito, ok? Maci, non ho mai citato in vita mia. Io non cito e non cito. Bene, Alexa, imposto un timer di dieci minuti. Allora... C'è una cosa che mi dà particolarmente fastidio, comunque. Dimmi, dimmi, dimmi cosa stai. Vedi quella cosa rosa davanti a te? Cosa c'è? Qui maialini? Nooo, hai ucciso i maialini! Erano molto fastidiosi. Bro, ma non si fanno queste cose! Erano molto fastidiosi. No, non si può fare. Come lo faccio un motorino su Minecraft? Io sto cercando di guardare qualcosa online, se mi possono dare... Sempre a copiare. Ma se io scrivo scooter, viene fuori il monopattino elettrico, aiuto! Ma come è possibile questa cosa? È complicato, Maci, è complicato. Capisci? È complicato, sì. Vabbè, allora, senti, non mi interessa. Io la faccio per i cavoli miei. Allora, devo fare... Io comincio a fare ruote. Le ruote come le fai? Le fai grandi, tu? Ma certo che faccio grandi con voi, c'è... 3, 4, 5, poi facciamo così. 2, 1, e poi di nuovo 2. 2, e poi 5. Grande, così è un po' tanto. 3, 4, 5... Ah, va benissimo, Maci, tranquillo. No, loco, mi stai facendo fare qualcosa di gigante, colpa tua, perché... Non ho fatto nulla! Ecco, è sempre colpa tua, loco. È sempre colpa tua, cavolo. Ok, in qualsiasi caso? Sì, direi sì, è sempre colpa tua. Se tu la pensi così, va bene, è giusto pensarla. Poi così, giusto 5, o 2, 3, 4, e 5. Allora, per adesso, diciamo che sono in linea con una costruzione piuttosto decente. Ok? Non è decente. È piuttosto decente. Fa schifo. No, quando dici così, non va bene, ok? Come io faccio... Aspetta, concrete grigio, grigia scura, sì, grigia scura. Io le faccio le così, no? Allora, facciamo così. Non so cosa fare, è impossibile. Cosa? È tutto possibile, loco, è tutto... No, è fisicamente impossibile fare un motorino su Minecraft. Perché? Perché non si può fare, basta. Ma fai una bicicletta, ho detto che va bene anche la bicicletta, ho detto moto e bicicletta. Io faccio un motorino, allora. E fai quello che vuoi, nessuno ti vede di fare quello che vuoi. Te l'ho detto, posso fare in 2D, cioè? Beh, sì, come lo vuoi fare, scusami. In 3D? Quasi, quasi. Come fai a farle in 3D? È impossibile. Allora, intanto, amici, nei commenti, non mi sembra che voi state commentando molto con qualche idea per i prossimi video, per le prossime costruzioni. Questa penso che sarà l'ultima costruzione di questa serie, comunque. Io te lo dico, loco. Come l'ultima, no? Basta, 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 basta. Davvero, è finita così? Eh, basta, basta, mi sa, basta. Allora, dobbiamo fare un grandissimo, un gran finale. Molto bello. Io la faccio gialla, la bici, lo sai? Faccio una bici gialla. Come gialla? Non so se sta venendo qualcosa di carino, facciamo così. Qua ci mettiamo, tipo, gli ammortizzatori, facciamo gli neri così. Ma tu fa anche gli ammortizzatori, guarda. È certo, bro! Ma che spazio tu? Bro, ma io non ho capito, bro! Beh, bro, quanto tempo? Bro! 10 minuti. Come 10 minuti? 10 minuti solo, 10 vedrai. E poi ti scontenterai. Cosa? Non lo so cosa stavo dicendo. Io sto cercando di guardare una moto da guardare. Io non sto guardando nulla. Non c'è una moto decente a copiare! Diamine! Ok, qui facciamo, tipo, lo schermino. Ma io non guardo nulla. Io vinco, così. Va bene, fai come ti senti. Cioè, sinceramente, a me non mi interessa. È che non so di preciso come si fa una bici. Aspetta, come è fatta una bici? Sai che sono nel panico, loco? Cioè, sono nel panico. Ma è facilità. Ha due ruote, è strana, è bella. Fino lì ce l'avamo arrivati un po' tutti, loco. È che era un po' strana. Ok, facciamo così. Allora, questo qui è la parte sopra. Sì, sì, sì. Bella, bella. Ci sta, ci siamo, ci piace. Però non parte da qui. È che la sei, aspetta, scusa, posso, loco? No, 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 no. Una bicicletta. Che poi io faccio una bicicletta a moto. Ok, diciamo che è una bicicletta. Una? È una bicicletta. È una bicicletta? È una bicicletta, sì. Una bicicletta? È una bicicletta palese. Ok, diciamo così. È che non mi ricordo bene come deve essere fatta la forma. Cioè, guarda che non è facile. Dimmi la verità, è facile? È piatta. È facilissimo, Marci. Non è facile per niente, è difficilissimo. Allora, come faccio la catena? Così la faccio. Tu fai anche le... La catena la fai? Ma che catena? Ma che catena? Faccio una cosa incredibile qua io, mamma mia. Io sto facendo un momento di particolarmente strano, te lo dico. Il mio passeggino. Come siamo un passeggino? Un passeggino. Ok. Così. No, in realtà ti dirò, la mia potrebbe essere carina. Beh, a tutto te. Potrebbe essere... Potrebbe avere del carino, ragazzi. Perché se io poi la unisco qui, tecnicamente faccio così. Poi la tiro su. Qua ci faccio il sellino. Loco! Ce l'ho! Io ce l'ho, eh? Ce l'hai? Io ce l'ho. Io ce l'ho e la sto facendo bene. È incredibile questa cosa. È pazzesco. È assurdo. Nessuno l'avrebbe mai detto. Nessuno l'avrebbe mai sperato. Ma Marci sta facendo qualcosa di pazzesco. Questo sì che è un sellino. Questo è il sellino che tutti dovrebbero avere. Morbido. Comodo. Bello. Bellissimo. Bellissimo. Allora... Marci, tutto bene? Ci sta. Ora abbiamo l'unico problema. Che non so come fare la... Allora vediamo, ti copio un pochettino che ho bisogno di... Di ispirazione. Eh, affetto. Se tu mi copi, è finita, per te lo dico. Io non copio mai. Mai, mai, mai. No, no, infatti. Mai, proprio... Non l'ho mai copiato in vita mia. Mai dire ma... Eh sì. Ma proprio così. Cioè, giustamente. Allora, è esattamente qua la ruota. Ma io la ruota posso in qualche modo ricopiarla? Secondo me no. Allora, aspetta. Mi sto così emozionando. Uno, due, tre, quattro, cin... Sei. Sono due, quattro, sei. Allora, due, quattro, sei. Ma ti posso dirti una cosa sincera, sincera dal cuore? Hai perso. Hai perso. Ho perso? Hai perso. Non puoi niente. Se ho perso, benvenga. Vuol dire che tu hai fatto un lavoro migliore del mio. Incredibile. Io apprezzo quando qualcuno fa qualcosa meglio di me. Io lo dico. Io ci sto. Va bene? Cioè, assolutamente, per carità. Questo però è da fare oltre. Assolutamente. Assolutamente, zi. Assolutamente, zi. Ok, qui facciamo così. Allora, due, tre, quattro e cinque. Alexa, quanto manca il timer? No, chiedo per un amico perché se no manca sia. Alto timer da dieci minuti. Restano tre minuti e trenta seconda. Come tre minuti? Io ho finito. Ma come hai finito? Ho finito, Marci. È vero. Ho la mia bici. Ho fatto la cosa più bene. Loco, loco. Stavolta ti dirò. La mia bici è veramente bella, loco. Tu pensi di avermi battuto, quindi? No, di averti battuto non per forza. Però è una bella bici la mia. Cioè, è proprio bella. Devi spaventare, Marci. Devi proprio spaventarti tantissimo. Allora, o hai trollato? Potresti aver trollato perché ti conosco. Io che trollo? Quando mai non ho mai trollato in vita mia? Allora, questa è una bella bici. Allora, la bici mi è venuta bene. Ora, il problema cos'è? Fare tutti i dischi. Ok, facciamo così. Sai cosa non ho fatto? Cosa? Tu gliel'hai fatti i freni? Sì. Ok. Tu gliel'hai fatti i freni. Tu non hai fatto niente. Tu non hai fatto incredibilmente niente. Tu mi stai trollando brutalmente. E non so che cosa tu posso aver fatto. Perché la mod della bicicletta non c'è. Hai barato. Hai barato. Ti posso dire la verità. Dimmi. Ho fatto la cosa più brutta che io abbia mai fatto in vita mia. L'hai fatta piccolina, secondo me. Enorme. Però è la cosa più brutta. Non è una bici. Non è una bici. Hai presente una bici? Sai com'è fatta una bici? Sì. So com'è fatta una bici. Molto più grande. Hai fatto una bici grande? Vabbè. No. Tutto insomma. No, no, no. No, no. Capirai a tempo debito. Vuoi avere del tempo in più, loco? No, no. Oh, vai. Mi sono rassegnato a sta schifezza. Va bene, ok. Allora, io ti dico. Il freno lo voglio fare con la concrita grigia chiara. Almeno se ne faccio il freno non con la disco. In realtà potrei fare il freno a disco. A disco? Il freno a disco è qua dietro, ragazzi. Guardate. Lo faccio così. 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 E così. E questo è il freno. E ci facciamo la pinza rossa. Come se fosse una pinza rossa. Eh, sì, ci sta. Loco, mi stai distruggendo una roba? Ti ho visto. Cosa ho distrutto esattamente? Loco, ti ho visto. Cioè, non è che sono stato io. Non ho fatto nulla, ma ci sono. Loco, sicuramente questo l'ho fatto io. Non ci sono neanche. Certo, certo. Sì, sì. Sì, sì. Bella. Raga, a me piace... Oh, ho fatto una figata, raga. Ho fatto una figata. Come al solito, mi sono superato. Facile copiare su internet, vero? Non ho copiato niente su internet, campione. No, no, no. Guarda, ti faccio dire cosa ho copiato. Vuoi vedere? Mamma mia, che spetta... Ragazzi, che spettacolo ho fatto! Mamma mia! Non ci credo. Non mi ricordo di aver fatto una cosa così bella nella mia vita. Io mi portiamo vincitore, posso dirtelo, Marci. È quello che vuoi. Tanto non sei vincitore. Facciamo così. Facciamo il freno dietro. Ok, facciamo così. Io lo farei tipo doppio. Ecco, esatto. Facciamo così. Così. E così. Mi piace. Però facciamone uno tipo più stretto davanti. Esatto. Che bello! Ma che bello! Ma io li faccio anche la borraccia qua. Ma io li faccio anche la borraccia qua. Anche non c'è il tempo, Marci, mi spiace. Non ce la farei mai e poi mai a farlo, Marci. È fatta la borraccia? Com'è fatta la borraccia? Allora, l'unica cosa che mi turbo un pochettino, penso che sia l'altezza di questo loco che dovrebbe essere un po' più alto. Però, Alexa, quanto manca il timer? L'unico di 10 secondi. Ok. Ma la borraccia è blu, cioè, così la borraccia, scusa. Fai come vuoi, Loco. Cioè, ma fai veramente come vuoi. Ma che bella. Ma fai come vuoi. Alexa, basta! Io ho contribuito alla mia vittoria, alla tua vittoria. Vado? Alla mia vittoria. Ok, vado. No, fermati, fermati, Marci. Ma è una macchina. Ah, no. Ho provato a fare una moto. La moto è questa qua. Eh sì, e poi io mi sono reso e ho fatto questa cosa. Sai come si poteva fare? Questa cosa doveva essere una moto. Non c'ho avata. Guarda, mi è venuta in mente adesso l'idea vedendo le tue rotaie. Sei pronto? No. Potevi fare una roba del genere. Guarda. Questa era già una moto più bella di quello che hai fatto te. In effetti... Andiamo con il prossimo tema. Il prossimo tema è hotel. Hotel? E stavolta io non cito. E ho già in mente come farlo. Lo voglio fare, giallo. Non farmi ridere, dai. Non farmi ridere, dai. 7, 8, 9, 10. Allora, voglio fare tipo le due arcate. Un po' come se fosse un grand hotel. Stile un po' il museo che ho fatto. Io aspetta. Alex, impasso un timer di 20 minuti. Ma sì, ma non devi anche imbegniarti. Tanto sto gioco che ti fa poco lag il server e tu fai tutte cose. Allora. Walls. Walls. Yellow. Concrete. Ok. Questa qui sarà la prima parte. E dall'altra parte faccio la stessa cosa. Però. Allora, aspetta. Io l'ingresso lo voglio fare così. Grande di qua. E deve essere dritto anche da questa parte qua. Allora, secondo me viene una cosa... Perché si sta bloccando tutto? Loco, cosa stai facendo? Non ho fatto nulla, Marci. Sto costruendo, sono fermo. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. No, deve essere di più. Questo è... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loco. Eh? Cosa hai fatto, Loco? Perché me lo sentivo dentro di me? Perché lo sapevo dentro di me? Perché mi stanno chiamando il telefono? Pronto? Quindi dopo la chiamata di barco ti dico che hai citato... Ma hai proprio fatto il grande... Cioè, quando ho detto che facevamo l'hotel... Hai preso proprio un grande hotel! Bro! Sì! Bro! Non si fa! È sbagliato! Marci! Ma posso dirti la verità dopo questa tua affermazione? Posso dirtela? Sì. Posso? Sono pagliaccio, fatelo dire. Sono pagliaccio. Ma hai citato sempre... Con tutte le volte che tu hai citato... Io cito una singola volta... Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Me ne vado! No, me ne vado proprio! Ciao, 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 ciao! Ciao a tutti!